Il tipo di ricerca che svolgiamo riguarda sostanzialmente la robotica intelligente, quindi lo sviluppo di robot autonomi che siano in grado di agire da soli prendendo delle decisioni all'interno dell'ambiente naturale. Dal 2005 i robot autonomi hanno superato come mercato quello dei robot industriali e quindi si è incominciato a vedere un'espansione che è previsto sia esponenziale della presenza di robot in casa, sostanzialmente nella società. Il tipo di ricerca che svolgiamo riguarda la robotica autonoma. La robotica autonoma significa sviluppare dei robot che siano in grado di agire autonomamente in un ambiente naturale come possono essere le nostre case o le nostre città e il tipo di robotica che ormai ha superato la robotica industriale dal 2005. Abbiamo un mercato della robotica autonoma che è più grosso ed è previsto che cresca esponenzialmente. Esempi di queste cose li abbiamo in tutte le case anche in Italia, sono ad esempio i robot che puliscono per terra e aspirapolvere, ma esempi del prossimo futuro saranno appunto le carrozzine per disabili che tra l'altro sviluppiamo anche noi che autonomamente portano i disabili in giro, piuttosto che le automobili autonome, piuttosto che decine e decine di applicazioni che man mano arriveranno fuori gli assistenti per anziani. Ci sono grossi progetti della comunità europea che prevedono di avere degli assistenti robotici per verificare in casa dell'anziano se l'anziano ha un problema e supportarlo ad esempio. La ricerca in questo campo sta andando sempre di più verso il fornire al robot la possibilità di avere autonomia, quindi capacità di interpretare dei dati sensoriali che arrivano dai vari sensori più o meno commerciali per riuscire a capire che cosa gli sta intorno in un mondo naturale, in un mondo non strutturato come potrebbe essere invece quello della fabbrica e fare delle cose utili. Quindi l'idea è avere la possibilità di scegliere delle cose che possono essere utili e quindi avere davvero una creatura autonoma in grado di aiutarci. L'Italia è un paese in cui si fa molta ricerca in robotica, abbiamo circa, sino all'anno scorso eravamo il paese che aveva più ricercatori in robotica rispetto ad altre nazioni europee e abbiamo centri di eccellenza che sono in grado di produrre ricerca ad alto livello. Chiaramente il tipo di ricerca che facciamo noi è molto diverso da quello che fanno ad esempio in Giappone perché è ricerca che si basa sostanzialmente su finanziamenti europei, nessun finanziamento a livello nazionale e realizzazioni a bassissimo costo e quindi oggetti che non possono essere ad altissima tecnologia se non per quello che riguarda le cose furbe che ci mettiamo dentro. L'idea del ricercatore è un po' sempre l'idea di qualcuno che vive fuori dal mondo, in realtà in tutte le nostre applicazioni sono applicazioni che poi alla fine hanno ricadute reali sul mondo reale e lo vediamo in tutti i settori, a parte questi della robotica che abbiamo citato, ma qualunque degli oggetti tecnologici che ci stanno intorno sono stati fatti perché frutto di ricerca sono stati sviluppati all'interno di progetti di ricerca che poi sono arrivati a prodotti. Quindi è molto importante la ricerca e molto importante anche la fase finale di portare la ricerca fino al livello del prodotto finale che poi usiamo tutti i giorni.